vai vai baby ciao buono è da là di al bugger oh sei dei nostri Carlo sei dei nostri sei passato guardalo eee orco c'è un evento? chi è il VIP? con l'autografo è sotto esame per me è ok per me è ok per me è ok è sotto esame prendi il veronetto adesso ah li odiamo ad honorem ah eccolo eccolo guarda come si dirige guarda 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 che stile voi giovani fate tutti i cameroni a fare la soffesa dei salvataggi eh voi giovani fate tutti i cameroni io l'ho eh no io ce l'ho ma la niente a me io ho avuto il maestro perciò e tu vai e viaggia eh anche troppo è andato con gli scogli adesso da solo che lo volevo prendere su io il musturo per andare a vedere dove era andato perché questa roba la prende su va eeeh dov'è il nonno? boh il nonno va in eclessi torna indietro con le tasche così dai eh si rientra le tasche? non può resistere come i sassi parto senza retina perché dice no stavolta no niente e invece dopo ha le tasche dentro come pollicino si dopo li lascia si ma dopo sono visto l'ombrellone la metà si riperde subito in acqua ah no no le tasche con la retina dentro ah sborone grazie